ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi si è nuovissimo perché questo sarà veramente nuovissimo perché oggi è il mio compleanno e stiamo preparando un sacco di cose e oggi abbiamo deciso di fare questo video per farvi vedere le cose che facciamo ecco dove andiamo a mangiare? allora andiamo a mangiare la mia anzia con i miei tre cugini cioè con due cugine e un cugino e io ovviamente guardate che bella conciatura che ho? è bella è bella è proprio bella la conciatura allora quindi mamma allora vediamo un po' dovete tagliare la mortadella prima poi accoppiarla giusto? si allora dovete tagliare metà di mortadella poi accoppiarla e metterla nelle foccaccine però prima di tutto dovete tagliarle le foccaccine ci mettiamo un ombrellino? no io ci metto gli stuzzicadenti no guardate ragazzi sono questi gli ombrellini che si è fatta non devi mettere gli ombrellini? si che se scusa scusa se ragazzi no aspetta che questo ombrellino allora questi ombrellini li hanno attaccati perfetto allora io ho un ombrellino e questi sono gli ombrellini che vi spiego come aprirli allora dovete prima fare così con molto ecco per esempio questo non si apre comunque dovete fare così con molta molta attenzione allora questo l'ho già aperto quindi no non l'ho già aperto e poi fare così poi magari metterlo in un ombrellino e questo è il vostro ombrellino adesso mettiamoci gli ombrellini e così e forse l'ombellino il problema è che ora io li porto via e quando li porto via dopo l'ombellino si rompe ora li mettiamo a casa della zia si vai perché la mamma ci ha messo gli stuzzicadenti va bene va bene mettici gli stuzzicadenti e ora la mamma sta preparando le cose che ora vi faccio vedere si metti gli stuzzicadenti mettici di te vai ora quando va ben pronto si mangia intanto eh sì però dopo noi stiamo sistemando dovete sapere che noi andremo via alle tre in mezzo ecco faccio vedere il piano di lavoro della mamma che è quello lì vai metti dentro e io metto gli stuzzicadenti nel frattempo che la mamma man mano che la mamma mette le boccacchine ne prendo tre così poi mettiamo qua dove non ci sono ragazzi mettete like a questo video se vi piace a tutti quelli dei viaggi a tutti quelli della vita di Sofia se vi piacciono anche perciò che compriano di Sofia quindi qualche mi piace glielo dovete mettere però ragazzi ovviamente se vi piace questo video non siete mica obbligati e le mamme sono sempre così ora io ragazzi non so le vostre papà ha anche superato l'esame del drone quindi abbiamo un pilota di drone sì e comunque ragazzi le mamme sono molto noi ora io non so le vostre però la mia mamma è molto noiosa però la cerchi sempre questa mamma molto noiosa eh lo so perché è anche molto dolce ma bello a tutti i ragazzi vai babbo cosa canti? babbo babbo sei in viva voce qui eh? in viva voce? eh nel video tutti calentino queste le abbiamo già fatte dopo facciamo ma non è il buco? non lo trovo ecco 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 dopo vi facciamo vedere le focacchine ragazzi vi volevo dire scusate se non ho messo più video solo che ero all'isola delpa e se no consumavamo insomma i dati per tutti i video e quindi non potevo farli cioè non potevo metterli mettiamo le altre due così poi siamo belli pronti per mangiare dopo facciamo gli involtini con i wustel e li prendiamo ovviamente però non dicendoci a tutti i ragazzi ma continuando questo video bensì continuando questo video no il cascato non sono scadenti nella mia famiglia che bello no Sofia dopo lo cercheremo di prenderlo ebbene sì ragazzi queste sono le nostre focaccine ma aspetta le dobbiamo ancora finire dobbiamo mettere il cascato intanto le facciamo non so se c'è il mio braccio quindi c'è il mio braccio ok ragazzi siccome sennò questo video diventano indiofuso allora vi mettiamo aiuto sennò andiamo sopra le focaccine e le ammazziamo tutte allora vi mettiamo il timelapse ciao ok ragazzi allora queste sono ora veramente tutte le nostre focaccine con prosciutto crudo mortadella e in altre anche prosciutto cotto quindi in alcune c'è il prosciutto cotto in altre in prosciutto crudo e in ancora altre mortadella vi piacciono? mettete like se vi piacciono eccoci adesso che bisogna fare? adesso stoppiamo perché si mangia